vai 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 gaiori ce dai pasta vai 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 pedala pedala non ci fai male dai vai vai un sapima no ma si sapeva perchè era rallentato nella curva che la poteva fare si mettere sempre davanti vabbè 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 comunque sia il clay dai vai dai 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 ba eroy rosa ho finito a ah l'ha finita? eh perchè qua è una doppia è finita però ora deve passare perchè se no la classifica comunque mi dispiace per francisci che la poteco? eh eh è stato troppo coglione